Perché sono cresciuta con la matita in mano e l'arte è ciò che mi ha appassionata fin da piccola. Perché fin da bambina ho sempre avuto un grande interesse nei confronti dell'arte, in particolare per il disegno. Perché qui scopri come sviluppare i tuoi interessi. Perché è in grado di fornire i strumenti necessari per valorizzare il proprio talento artistico e la propria creatività. Nell'89 non ne avrei potuto fare a meno. Ho dovuto dare soddisfazione a una creatività esplosiva. L'ho scelto nel 2000 per imparare a dare una forma alle mille idee che avevo in testa. Per tutti coloro che hanno delle attitudini creative e che amano l'arte in generale. Per tutte quelle persone che pensano che le art visive siano un miglior mezzo per esprimersi e per comunicare. Per chi ha voglia di lavorare sodo per realizzare il bello. Per i più creativi e i più curiosi. Persone vulcaniche e poliedriche. Per chiunque abbia voglia di esprimere se stesso. Per chi è folle, per chi vuole raccontare storie e comunicare attraverso tecniche completamente differenti l'una dall'altra. L'ho scelto ogni giorno per imparare sempre nuove tecniche. E che qui ho trovato la mia strada. Perché è un posto in cui mi sento libera di esprimere il mio vero modo di essere. L'ho scelto per imparare e l'ho riscelto per insegnare. Mi sa che vuol dire che è proprio il mio posto. Perché è dove posso dare libero spazio alla mia creatività. Perché mi insegna sempre qualcosa di nuovo. Aiuta lo studente a crescere sia personalmente che artisticamente. È una scuola altamente formativa. E per questo potrete scegliere tutte le strade che vorrete. Un futuro legato ai campi creativi. In contesti come l'edilizia, la grafica, il design o persino la fotografia. Per creare qualcosa che mi dia la possibilità di esprimere la mia arte. Per un futuro nel campo dell'arte ma non solo. Per un futuro di arte in tutte le sue forme. Avrete un punto di vista diverso e profondo delle cose che vi circondano. Oltre allo studio teorico, si analizzano tutti i filoni dell'arte, in modo tale che ogni studente possa trovare la sua strada. Si esplora l'arte in alcune delle sue forme, come il disegno o la grafica, cercando di far evolvere il proprio stile personale. Si sviluppano le proprie capacità creative attraverso tecniche come pittura, modellazione di argilla, design o fotografia. Si costruisce un bagaglio visivo e culturale a servizio della creatività. All'artistico si collabora, si sperimenta e si crea. Grazie. 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 Grazie.